Mi sono addentrato nella labirintica Tsukiji, rendendomi subito conto della sua immensità. Una gloriosa città-mercato, contorta, complessa, concepita su più strati. L'atmosfera di quel posto è qualcosa di unico, di inimitabile. Guardando in ogni direzione, soprattutto dal basso verso l'alto, si possono scorgere anfratti, percorsi, macchinari misteriosi, tuba tumore, sculi. Per terra ci sono pozze di sangue sparse qua e là, teste mozzate di enormi mostri marini, ghiaccio, interiori animali. Gli abitanti della città-mercato di Tsukiji lavorano senza sosta, dando il loro meglio. Non sembrano sconvolti, però, nei loro piccoli occhi si può intravedere una luce tutta particolare, calda, che narra della loro provenienza, del loro luogo. Nonostante possa sembrare uno scenario lugubre e doprimente, Tsukiji è un posto risplendente, misterioso ed affascinante. Un simbolo importante. Fantasticano su una cosa. Non sarebbe incredibile ambientare un film interamente a Tsukiji? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.